La canzone è una cosa che ha due dimensioni, no? Sei d'accordo? Cioè, in che senso? Oddio, cado. All right, vieni! Santiago del Cile, siamo a Bogotà, a Colombia. Ecco Buenos Aires, Montevideo, capitale di quale paese? Uruguay. Venga, ma sei molto preparato. Nel senso che, perché la ritmica è fatta. Che non è intere però, hai tutto. Chiaramente la famosa astiscella olimpica del salto in alto, ogni volta si alza, no? No, non si può fare un disco, non si può mai rifare un disco, non si rifà un disco. Si fa un disco. Capito? E benvenuti nella GiovaTV!